INSS presenta alle origini dei nostri valori, cura, rigore, genuinità. Oggi parliamo della nostra carne. Garantirvi la qualità dei nostri prodotti è fondamentale. Per questo le nostre carni sono sottoposte a una serie di controlli durante l'intero processo produttivo. Selezione della materia prima, igiene e sanificazione, metodi di lavorazione all'avanguardia, certificazione e tracciabilità, impianti moderni dotati dei più recenti sistemi per la gestione di ambienti a temperatura controllata. La qualità di molte delle nostre carni è determinata inoltre dall'uso della confezione Skin, ideata per assicurarvi una migliore e durevole conservazione. INSS. Ogni giorno portiamo sulle vostre tavole un prodotto buono e genuino.